Sì, 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 in persona, è proprio lei, la DJ Parade di Radio DJ, ciao a tutti da Manuela Doriani, ogni sabato pomeriggio alle 14, dalle 14 alle 15, dalle 21 alle 22 nella replica serale e ogni domenica dalle 19 alle 20 su Radio DJ c'è la DJ Parade. Ho detto subito in inizio tutti gli orari delle repliche così saluto automaticamente tutte le persone che non ci ascoltano in diretta appunto alle 14 ma ci ascoltano nelle altre edizioni sparse qua e là per il weekend di Radio DJ. Allora buon pomeriggio da Manuela Doriani, buon pomeriggio anche da parte di Vito che è in regia, siamo pronti per ascoltare le 20 posizioni che compongono la DJ Parade appunto, la super classifica della discoteca di Radio DJ. Vi posso già preannunciare che c'è un'unica nuova entrata per cui questo vuol dire che c'è anche un pezzo che esce dalla DJ Parade ufficialmente da oggi ed è la Fuerza Pagana di Moratto. La Fuerza Pagana Moratto su Radio DJ esce ufficialmente questa settimana dalla nostra classifica però non è il caso di aversela male più di tanto perché comunque continueremo anche a ballarlo in discoteca. È stato uno degli eti dell'estate per cui ancora è probabile che lo si senta da qualche parte. Allora è in vacanza Albertino, è inutile che ve lo dica già lo sapete per cui non avremo tutti i vari personaggi che solitamente siete abituati a sentire nel corso della DJ Parade, la bambina nel tombino, i vetri che si spaccono, che si infrangono però avremo comunque un sacco di ritmo. La Fuerza Pagana Moratto 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 Numero 18 La Fuerza Pagana Moratto 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. , grazie a tutti. . Grazie a tutti. a tutti. . . , come on. . , , , , , con..., , ,... ,..., ,... ,... ,... ..., ,..., ,..., ..., ,..., ,... ,..., ,..., ,... ,..., il petto sentitola il petto sentitola il petto sentitola il petto sentitola Carina, carina, delicata, delicata questa canzone, sentitela sing, oh, e sono in Marvelous Melodicos su Radio DJ, numero 6, in salita di un posto rispetto a sette giorni fa questa canzone, sono contenta perché mi piace una città. E invece noi saliamo ancora di una posizione, siamo sempre più vicini allo spazio riempito in pista della DJ Parade, della super classifica da discoteca di Radio DJ e siamo esattamente in quinta posizione, salgono anche i Fun Factory, oh baby can't you see, oh baby talk to me, I wanna be close to you. Oh baby talk to me, oh baby can't you, oh baby talk to me, I wanna be close to you. Oh baby talk to me, oh baby talk to me. Oh baby talk to me, oh baby can't you, oh baby talk to me, oh baby don't you see, oh baby talk to me, oh baby talk to me. Oh baby can't you Oh baby talk to me Oh baby can't you Oh baby talk to me I wanna be the song to you Oh baby talk to me 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 Andy J. Forrest canta la leggenda dei suoi bucaro bus Attenzione a tutte le spiagge d'Italia E' uscita Summer is Magic Compilation La più fresca dell'estate Con Flyer's Magic Compilation Summary's Magic Compilation Oggi vi dirò perché la 500 fa passare i brufoli Ecco sentiamo un po' La 500 è l'ideale per girare in città Radio 510 Radio 510 Sì, DJ Parade su Radio DJ, siamo Emanuela Doriani, quella del 27 agosto o 28 perché ascolta la replica della domenica. Allora facciamo un piccolo riepiloguzzo delle prime dieci posizioni della nostra classifica, la super classifica della discoteca di Radio DJ. Allora numero dieci, in salita decisa proprio, Two Brothers on the Fourth Floor con Dreams. Numero nove, Find Me di Jamin Spoon, in ottava posizione, Shamed di Brutto, Sweet Dreams di La Bush, una ex numero uno della DJ Parade. Numero sette, c'è Sweet Music di Amos, Alsaid, Marvelous Melodicos con Sing Oh. Numero cinque, Close to You, Fun Factory, in quarta posizione abbiamo ascoltato prima della pausa la bomba di Ramirez. Saliamo nello spazio riempi pista della DJ Parade di questa settimana e al numero tre, udite udite, ci sono le click con Tonight is the Night. Eee! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.